Il risultato per la Polizia di Stato, per la gestione dell'Ugento, per lo scopo e per la procura distrettuale. Un intervento molto importante nell'ambito di una manifestazione della mafia estremamente importante e tipica del nostro territorio, che è quella della mafia rurale. Io vi ringrazio per lo spazio. La mafia continua sempre a 360 gradi. Grazie.